il mio ragazzo è così intento ad ascoltarvi e a ridere che non mi sta cagando proprio aiuto comunque siete cioppopessi peccato che non si firma però non si fa non si fa immagina la macchina chissima classico sono così un po' moda 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 che c'è qua su c'è bombosa amore scusa hai visto mi sono visto? tanto perché sono troppo simpatiche mi fanno divertiti e mi fanno spaccare mi fanno inizio amore hai visto come mi sono toccato i capelli amore hai visto come mi sono toccato i capelli amore hai visto come mi sono toccato i capelli ma mi sono toccato i capelli amore hai visto come mi sono toccato i capelli ma tu puoi stare in moda sono fatta i colpi di sole facciamo una cosa come arriva a 160 tu fai una cosa per scutterlo e scendere automaticamente devi dire la cintura però magari la piazza andrà a fiancata Sono Patrizia, voglio mandare un mondo di baci a mio marito Gaetano che amo alla follia.